Wedding and living, il salone nazionale della sposa e della casa organizzato dalla Expo di Barbara Mirabella in programma dal 29 settembre al 1 ottobre ad Etna Fiere, centro fieristico di Etna Police perfetto per gli sposi e il salone Wedding and Living che manterrà il proprio status di Fiera Wedding and Planner organizzato in un periodo strategico dell'anno mese delle anteprime 2018 per tutto il comparto del matrimonio e dell'arredo Siamo prontissimi, è strano parlare nel 2017 di un'edizione 2018 in realtà perché qui ad Etna Fiera Wedding and Living il salone nazionale della sposa e delle casa si presentano le anteprime, le anteprime della moda sposa sposo cerimonia della casa con i colori tendenza del 2018 davvero una panoramica unica, una carrellata un wedding planner in fiera come ci piace sempre dire e quest'anno ricorrente questo hashtag che credo racconti bene l'emozione e il sentimento di questa tre giorni che è perfetto perfetto come il matrimonio che regaleremo un grande concorso che regalerà pensate un intero matrimonio ai futuri sposi dal catering per ben 100 persone una location stupenda, l'abito da sposo, da sposa il velo, il servizio fotografico, il video, le scarpe, le fedi il weekend in spa, adesso lo ricordo tutto ma davvero una roba straordinaria e quindi vincere è semplicissimo basta venire, visitare la fiera e giocare con la fortuna inserire un coupon dentro un urno e chissà che non si possa vincere davvero un intero matrimonio e poi perfetta è anche la coppia che abbiamo cercato con il nostro partner, ma di sì, partner ufficiale come web col quale siamo andati in giro con il nostro camper dell'amore per tutta la Sicilia a cercare la coppia più, secondo noi perfetta non perché più bella, ma perché più affietata, più sincera, più spontanea e queste coppie, selezionate 10 nel Gran Galà di domenica spileranno con gli abiti da sposo e da sposa offerti dai nostri sponsor e la più carina verrà votata da una giuria di tecnici quindi davvero tanto, tanto da fare stand stupendi, impossibile non rimanere incantati da questa carrellata, da queste vetrine straordinarie sedetevi negli stand delle ville per ricevimenti assaggiate le meraviglie dei catering lasciatevi fotografare dai fotografi più bravi d'Italia noi vi aspettiamo, siamo qui ad Etrafiere è ancora possibile domani scaricare l'invito maggio salonedellasposa.it Expo, quest'anno ci ha dato la grande gioia la grande lusinga di chiederci della partecipazione in questo evento molto importante quindi, ma di sì ed Expo insieme in un tandem, tra l'altro abbiamo fatto la foto bellissima con un vero tandem durante l'inaugurazione proprio a cercare di dimostrare in maniera definita come sia importante questa partecipazione questa partecipazione finalizzata al mondo del comparto matrimoniale utile a creare una situazione organica un'ordine nel campo appunto dei ricevimenti industriali un evento con una funzione ben definita legata al nostro territorio ad esaltare ancora una volta per quelle persone che non lo sapessero ad esaltare la posizione di assoluta preminenza che queste manifestazioni che vengono con grande maestria con grande professionalità portate avanti da Barbara Mirabella queste manifestazioni sono la punta di diamante dell'intero comparto matrimoniale a livello nazionale infatti sia attraverso l'intervento appunto di queste fiere molto particolari e modestamente anche con l'intervento del nostro portale matrimoniodisicilia.com stiamo organizzando i grandi talenti del comparto matrimoniale proprio per dare un messaggio di grande professionalità in maniera che le coppie che per la prima volta si aprono al mondo del ricevimento inunziale perché ovviamente una coppia si avvicina una volta o poco più abbiano la serenità la tranquillità di essere tra virgolette protetti da un sistema ben organizzato che possa evitare loro di fare delle scelte poco colate e delle quali ovviamente pentirsi quindi assieme a Barbara Mirabella godiamo di questo momento istituzionale che viene già trovato la vallo di moltissime coppie che ci hanno confermato la bontà dell'idea la bontà dell'intuizione per cui verifichiamo adesso in questa fiera meravigliosa che già non abbiamo avuto il tempo di aprile che già è stracolma di persone verificiamo la bontà del progetto e auguriamoci che ovviamente che in questo fine settimana moltissime coppie abbiano il piacere di venire a toccare con mano e verificare quanto la somma tra Expo di Barbara Mirabella e Madisì sia superiore addirittura alla somma aritmetica e quindi di questo andiamo molto fieri Si rinnova questa grande Kermes è un appuntamento importante ormai punto di riferimento per Sposa e Casa Assolutamente sì un evento giunto alla quinta edizione di grande valenza che ha superato i confini territoriali della nostra provincia della nostra regione quinta edizione oltre 100 espositori 4.000 m2 di area espositiva molto elegante curato nei minimi particolari quindi a Barbara Mirabella Expo va certamente il plauso anche delle istituzioni perché attraverso un evento eferistico come quello che oggi viene formalmente inaugurato si determina una ricaduta sul territorio di grande valenza non soltanto all'interno del comparto su cui insiste l'evento eferistico ma anche nelle attività della ristorazione l'attività ricettiva che grazie a questo evento trae un indubbio giovamento Un evento organizzato da Expo di Barbara Mirabella qui a Etnapolis che ricade nel vostro territorio quanto sono importanti anche per promuovere il vostro paese queste iniziative? Sicuramente tantissimo perché dà molta visibilità al nostro territorio quindi per noi è molto importante che avvengano questi eventi come questo di oggi che credo che sia molto molto di qualità e anche per la notizia che avvene la notizia che avvene la notizia Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.